Fare allarmismo non mi piace, ma la situazione non è certamente rassicurante. Così il sindaco di Delia, Gianfilippo Banchieri, in merito alla chiusura momentanea della discarica Timpazzo di Gela. Ieri, in prefettura a Caltanissetta, si è tenuto un tavolo tecnico per fare il punto della situazione che si è venuta a creare. Erano presenti i sindaci dei comuni di Gela, Sommatino, Delia, Riesi, Mazzarino, Niscemi, Butera e Piazza Armerina, ovvero i soci della SRR4 Caltanissetta, provincia sud. Presenti inoltre il direttore dell'ARPA CL, dottor Daniele Parlascino, il dirigente del settore ambiente della provincia, l'ingegnere Francesco Toscano, il responsabile tecnico della discarica Timpazzo, l'ingegnere Montagnino. Da parte nostra, ha detto il sindaco di Delia Banchieri, che rappresenta la riunione, abbiamo fatto tutto quello che è il nostro potere fare e siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità come sindaci per scongiurare situazioni che potrebbero diventare in seguito più complicate da affrontare con i mezzi a nostra disposizione. A coordinare i lavori del tavolo tecnico è stato il vice prefetto Giuseppe Di Raimondi, che ha sentito i sindaci e i dirigenti tecnici dei rispettivi servizi ambientali presenti all'incontro. Ieri, ha detto Banchieri, abbiamo fornito al vice prefetto le informazioni tecniche necessarie e offerto la nostra collaborazione affinché si possa procedere, spediti ad una risoluzione della difficile situazione che si è venuta a creare e che sta creando seri problemi ai comuni colpiti dal provvedimento di chiusura. Purtroppo, è bene dirlo, i sindaci non possono far di più perché non hanno alcun potere in merito. In altre parole, i primi cittadini in questo momento non possono riaprire la discarica e neppure vi possono far conferire i rifiuti raccolti. Questa decisione spetta solo al Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, a quale abbiamo disposto in questo momento tutte le nostre esiglie speranze. Una soluzione è stata indicata durante l'incontro a proporla all'ingegnere Montagnino, responsabile tecnico della discarica Timpazzo. Si tratta della riapertura di una delle due vasche della discarica, quella denominata CD. Mentre nella vasca B sono stati raggiunti i limiti di progetto ed è stata provvisoriamente chiusa, nella vasca CD vi è ancora una capacità residua di oltre 40.000 m3. In questa vasca sono stati completati interventi di messa in sicurezza, per cui prima della riapertura necessiterebbe un piano di monitoraggio concordato con l'ARPA di Caltalinsetta. Ciò che è stato chiesto è riaprire la vasca CD in contemporaneo con il monitoraggio, senza aspettare la fine del periodo previsto per il monitoraggio che è stimato in un anno. Ciò consentirebbe un periodo di circa 8-9 mesi in via presuntiva al servizio dei nuovi comuni della SRR4 per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Tale periodo è legato alla quantità della differenziata raccolta. Se aumentano questi, aumenta anche il tempo disponibile per conferire in discarica.